Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Oggi il video sarà uno spacchettamento, cioè mi è arrivato il pacchettino di Beauty Bay e lo aprirò insieme a voi, ho fatto un po' di danni Su Beauty Bay c'era il 20% di tutto, apprendiamo qualcosina e qualcosina è diventato qualcosa in più Ora, prima di iniziare, il mio trucco oggi fa tipo cagare perché mi sono struccata e truccata per tre volte quindi i miei occhi tipo mi lacrimavano, chiedevano pietà e alla fine non mi sono rimessa a fare un trucco, non ho neanche il rossetto perché se non ricordo male, ma potrebbe essere così all'interno di questo pacchetto c'è un rossetto, vi ripeto, potrei anche stare sbagliando perché sono quelle cose che quando fai l'ordine metti e poi levi, poi le rimetti e poi le rilevi dici vabbè ma li spendo questi soldi? Ma sì, spendiamoli poi vai per pagare e dici no dai leviamo questa cosa quindi non è che sono sicurissima che ci sia quel rossetto qui dentro oddio, mi stavo per tranciare una mano per quanto riguarda Beauty Bay voglio dirvi una cosa perché mi scrivete sempre io ho ordinato ma in quanto tempo arriva ma ho fatto l'ordine su questo sito tra quanto arriva? Ragazzi, ma io non lo so non sono io che gestisco i siti io magari vi posso dire sì, a me è arrivato in otto giorni a me è arrivato... questo non mi ricordo neanche quando ho fatto l'ordine ci sarà una data qui il 26 oggi è 3 quindi ci ha messo praticamente i nove giorni ad arrivarmi se non sto sbagliando i calcoli all'incirca così calcolate sempre minimo 5-10 giorni lavorativi all'incirca se non sapete quando arriva il vostro ordine o lo scrivete al servizio clienti 2 sul sito ci sono le tempistiche di spedizioni io non lavoro con i siti non ho idea di quando arrivino ai vostri pacchetti questo qui è il mio ordine ho preso un po' tante cosine vedo che c'è il rossetto che vi dicevo alla fine l'ho preso non mi ricordavo male e lo metterò subito è la prima cosa che tiro poi il rossetto in questione è Celebrity Skin di Jeffree Star no, non è che ne ho presi no, no, ne ho preso solo uno ok mi stavo preoccupando Celebrity Skin di Jeffree Star che è un rossetto liquido e spero che non abbia quella quella fragranza puzzosissima che ha quell'altro che è Unicorn Blood colore bellissimo rossetto fantastico l'odore sta tipo di marcio però mi avete detto che è una fragranza che proprio lui ha deciso di inserire in alcuni dei suoi rossetti liquidi e non so se spero in questo non ci siamo comunque in generale dovrebbero averla tolta per fortuna perché non piace a così tante persone c'è anche un po' qui sì, purtroppo non è forte come l'altro ma c'è anche qui il colore è un bellissimo nude e voglio proprio vedere come mi sta sulle labbra gli swatches su internet sembrano bellissimi sono sicura che in tanti già avete questo colore qui perché è tipo famosissimo colore davvero bellissimo spero che non si scurisca perché sapete ve lo dico sempre purtroppo i rossetti liquidi non so per quale motivo soprattutto quelli nude quelli più chiari tendono a scurirsi se rimani così è davvero spettacolare con un pizzico di gloss sopra adesso sapete quanto sono in fissa con i gloss penso che lo vedrete nel prossimo video dei preferiti perché è davvero stupendo allora iniziamo dalle cose più grandi così svuoto un po' la scatolina e faccio meno danni ho preso un set di pennelli di BH Cosmetics perché mi chiedete sempre un buon set di pennelli ad un prezzo non esagerato questo qui su Beauty Pay costa 29 euro però mi sembrava un set abbastanza completo quindi ho detto alla fine 29 euro per un set di pennelli non mi sembra per niente male ora mi avete consigliato quelli di Jessup nella diretta e sono andata a vederli su Amazon costano pochissimo ma io ormai già ho ordinato questi qui quindi proverò sia questi sia gli altri li comprerò sicuramente a prima vista così nella scatolina sembrano molto molto carini adesso li tiro fuori voglio sentire anche quanto sono morbide le setole prendiamo questo da sfumatura che sembra molto carino morbidi davvero davvero morbidi spero che mi piaceranno questo è bello gigante spero che mi piaceranno perché così a prima vista sembrano davvero carini questo mi piace tantissimo ragazzi questo l'adoro questo so già che l'adoro sapete tipo per mettere la terra fare un contouring leggero oppure mettere il blush questo pennello mi fa impazzire ve lo dico già da così ok non monopolizziamo questo video sui pennelli ma c'è aspettate che c'è altro c'è anche che carina c'è anche la cosettina per mettere i pennelli questa sicuramente la userò perché non so più dove metterli i pennelli ce ne ho talmente tanti che piano piano c'è stanno iniziando a diventare troppi per i miei portapennelli come vi stavo dicendo non monopolizziamo questo video con i pennelli ma andiamo avanti con il resto delle cose che ho comprato ve la faccio vedere così dalle mille bolle sì l'ho presa alla fine perché ho provato la soft glam di Anastasia Beverly Hills gli ombretti sono pazzeschi quindi siccome sto andando un po' in fissa per il viola ho detto devo prenderla assolutamente e questa qui è la palette di Anastasia Beverly Hills che si chiama Norvina Norvina è la figlia di Anastasia se non la conoscete e appunto ho creato questa palette che dovrebbe essere tipo il suo sogno cioè tutti gli ombretti ideali per lei dovrebbero essere qui dentro sembra bellissima aspettate che ve la faccio vedere più da vicino sembra davvero davvero bellissima ora voglio infilarci le dita dentro voglio vedere questo viola oh mio dio voglio vedere anche l'oro e voglio vedere oh mio dio ragazzi scusatemi sembrano pazzeschi proviamo a fare lo swatch vediamo cosa esce fuori aiuto non vedo cosa sto disegnando questo invece è l'oro e dov'è e questo è il viola wow guardate il viola che cos'è benissimo mi piacciono un sacco volete vedere un look volete vedere tipo un first impression proviamolo insieme volete vedere una recensione fatemelo sapere con un commentino qui sotto come al solito lasciatemi scritto che cosa volete cioè quali sono i prodotti che vi interessano di più in modo che possa capire cosa fare con ogni singolo prodotto ho preso un altro pennello sempre di BH Cosmetics non so per quale motivo forse mi ispirava e quindi diciamo prendiamolo anche perché mi ricordo che questo pennello costava pochissimo se non sbaglio sotto 5 euro questo qui è il brush V5 e è il vegan blending brush ah si l'ho preso perché sembrava un pennello da sfumatura molto carino lo sembra anche adesso super morbido le setole non pungono per niente il manico anche mi piace un sacco argentato un po' sbrilluccicoso metallizzato anche questo vi farò sapere se lavora bene con gli ombretti visto che mi piace tanto il fondotinta photo focus foundation di wet and wild ho deciso di prendere anche il correttore e la cipria quella pressata sapete che io utilizzo soprattutto per fissare il contorno occhi e la cipria in polvere libera però ho detto proviamola potrebbe essere carina per fissare il resto del viso o comunque per fare ritocchi durante la giornata quindi anche questa la proverò e vi farò sapere magari proverò tipo tutto insieme cioè fondotinta correttore e cipria come colore penso che vada bene sembra molto molto setosa ovviamente non posso giudicarla così spalmandomela sulla mano però così come prima impressione sembra carina vedremo poi ovviamente come lavora sul viso il correttore vi dico anche il colore che ho preso questo qui warm light mi ricordo che ci sono pochi colori di quella cipria comunque quello che ho preso è il warm light e invece il correttore è light ivory allora il correttore sembra molto corposo e allo stesso tempo anche asciutto quindi potrebbe essere l'ideale per chi magari ha una pelle grassa e cerca un correttore asciutto sì mi sembra si asciughi abbastanza in fretta ovviamente vi ripeto devo testare tutto sul viso e voglio vedere anche se questo sì mi sembra come se dia un effetto quasi crema polvere quando si asciuga come se è quasi cipriato ultimi prodotti che ho preso ma non per importanza ovviamente sono un po' di ombretti della colored rain ho la palette queen of hearts di colored rain e gli ombretti sono fantastici mi piacciono tantissimo quindi siccome appunto c'era il 20% ho detto ma prendiamo qualche ombrettino così per provarlo e ho preso questo qui che è un colore marrone credo sia abbastanza neutro come colore si chiama gingerbread questo qui poi ho preso champagne life che è questo ombrettino a base dorata non si vede tanto bene ma non voglio tirarli fuori forse forse li tirerò fuori adesso ve li faccio vedere questo si chiama side of olives ed è un verde oliva bellissimo questo qui mi piace tantissimo e poi ho preso who me questo qui messo su tutta la palpebra mobile è super carino se volete fare un look intenso però che non sia troppo colorato e mi è arrivato un messaggino ora sapete che cosa devo prendere una palette di ombretti magnetica ne ho vista una dall'america che è tipo gigante così grossa ci entrano 100 ombretti qualcosa del genere devo prenderla perché sto iniziando ad avere tanti ombrettini in cialda e non so dove metterli vediamo wow si questi qui mi piacciono un sacco questi di color brain è una marca che non viene così tanto menzionata purtroppo ma ragazzi gli ombretti sono davvero molto carini e calcolate che questi qui singoli costano mi sembra intorno ai 5 80 comunque credo sotto i 6 euro li ho presi con il 20% di sconto quindi li ho pagati ancora di meno però voglio dire come prezzo non è che si allontanano poi così tanto a quelle di Kiko io non è che so quanto costano quelle di Kiko ma la qualità è molto diversa oh mio dio oh mio dio questo colore lo adoro questo colore lo adoro follemente cioè l'ho appena sfiorato e wow questo colore sarebbe perfetto sapete quando realizzate dei look però sono un po' noiosi prendete questo lo mettete così con il polpastrello proprio al centro della palpebra boom si accende tutto l'occhio ho finito le dita ragazzi mi serve un dito in prestito quest'altro è pazzesco oh mio dio oh mio dio oh mio dio questo è stupendo gli ombretti di colored rain sono davvero tra i miei preferiti sono qualcosa di pazzesco sono veramente stupendi e questo è il verde oliva cioè guardate io li sfioro tipo così proprio accarezzandoli delicatamente e esce fuori una roba pazzesca questo verde si scoccia leggermente più metallizzato di come è nella cialdina ma è esattamente come lo volevo questo wow c'è bisogno che io dica qualcosa wow li voglio tutti li volevo prendere anche in altri colori il problema è che erano tutti sold out quindi alla fine mi sono un po' accontentata tra virgolette di questi qui se no avrei speso ancora di più quindi da una parte meno male che erano sold out quindi ragazzi questo è il video di oggi completato questi sono tutti i danni che ho fatto spero che il video vi abbia tenuto compagnia e che vi sia piaciuto se così è stato ricordatevi come sempre di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto il rosetto mi sta piacendo ancora di più adesso e non si è scurito per niente vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao